È arrivato l'annuncio di Ibrahimović, è successo nel post partita di Milan-Verona, avete sentito le sue parole? Nell'ultima partita di campionato i tifosi rossoneri hanno voluto omaggiare Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese in scadenza di contratto non continuerà la sua esperienza al Milan. 76 gol con la maglia del Milan in 125 presenze. Si è identificato sin da subito con il club, con la sua storia e tradizione, è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi. Che nel corso degli anni lo hanno venerato proprio come un dio, è tornato in rossonero in uno dei momenti più complicati della storia del Milan. È riuscito con il suo carisma e con la sua leadership a far crescere tanti calciatori e ad alzare di tantissimo il livello della squadra. Ma soprattutto è tornato a vincere, riportando al Milan quello scudetto che mancava da troppo tempo. Quando c'è Ibrahimović a Milanello le cose funzionano diversamente. Quest'anno lo svedese è mancato fin troppo. Tanto che non è riuscito a giocare nemmeno l'ultima gara di campionato. Quella a punto contro il Verona. La curva a sud ha accolto così Zlatan. Che si è goduto, commosso lo spettacolo e poi la partita. La ciliegina sulla torta la dedica di Rafael Leao dopo il gol del 2-1. Al termine della partita Ibrahimović ha preso il microfono in mano, si è preso il saluto e l'abbraccio di tutto lo stadio. Ha ringraziato per l'immenso affetto dimostratogli e ha pronunciato le seguenti parole. È ora di dire addio al calcio, non a voi tifosi. Visibilmente commosso lo svedese ha continuato. Ho tanti ricordi e tante emozioni qui dentro. La prima volta che sono arrivato mi avete dato felicità. La seconda, amore. Voglio ringraziare tutti, soprattutto i tifosi. Sarò un milanista per tutta la vita. Vediamo in giro se siete fortunati, forza Milan. E arrivederci.